Salve a tutti ragazzi sono sempre io Andrea e bentornati in questo nuovissimo unboxing come potete vedere abbiamo di fronte a me il P10, Huawei P10 che diciamo è un telefono ormai top di gamma se si può dire della fascia della Huawei e come possiamo vedere in anteprima troviamo il nostro telefono togliendo tutti questi vari cartoncini se così possiamo definirli andando un po' più in sotto troviamo subito questo pacchettino, questa scatoletta dove troviamo innanzitutto l'estrattore della sim o l'estrattore del carrello sim troviamo la varia documentazione con istruzioni per il telefono, garanzia come potete vedere e troviamo anche una cover che però andremo a vedere dopo andando un po' più in sotto ancora troviamo il cavo USB A, USB C per effettuare la ricarica o lo scambio dati con un computer o con altro come potete vedere classico cavo di Huawei questa volta appunto è cambiato usando una porta di USB di tipo C che devo dire che è molto meglio e molto più robusta senza stare qui a parlarne più di tanto troviamo le classiche cuffie che ormai da anni ci vengono fornite per concludere in bellezza ragazzi questa volta ci viene fornito un caricatore super charge cioè andrà a ricaricare molto più velocemente il nostro telefono avendo un vattaggio più alto questa qui ragazzi è una cover che ci viene fornita già con il telefono appunto nella confezione ed è rigida, è una cover rigida bene ragazzi questo qui era l'unboxing del Huawei P10 spero che il video vi sia piaciuto spero che vi sia stato utile spero appunto di esservi tornato utile magari in qualcosa io vi ringrazio per la vostra attenzione questo qui ragazzi era il mio unboxing io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video